Questa mattina siamo stati ospiti del Comune di Villabate, dove abbiamo chiacchierato con il Vice Sindaco Francesco Giglio, che ci ha parlato della trentesima Marcia per la Pace, dell'utilizzo dei beni confiscati alla mafia e delle graduatorie dei cantieri di servizio. Sono passati trent'anni dalla Marcia della Pace ed ecco che il Comune di Villabate, la popolazione, viene sensibilizzata al trentunesimo anno. Cosa ci aspetta, cosa succederà adesso? Il Comune di Villabate aderisce a questa manifestazione a distanza appunto di trentuno anni e lo farà con una delegazione ufficiale. Saremo presenti con il nostro confalone, con i nostri amministratori e saremo lì per dire che Villabate è contro la mafia, senza tentennamenti ma con grande decisione. Questo vuole essere per noi un motivo di orgoglio, vuole essere non l'antimafia parolaia ma quella fatta di azioni concrete. Siamo partiti dal basso cercando di recuperare la credibilità che il nostro Comune merita e lo abbiamo fatto coinvolgendo le scuole, le associazioni, le parrocchie, attraverso un intervento integrato che è Villabate percorsi di legalità. Ringrazio per questo la dottoressa Giuseppina Tesauro che per noi è un faro e un prezioso aiuto che ci sta appunto guidando in un percorso di rinascita e di crescita. Saremo a Bagheria e a Casteldaccia proprio per testimoniare che il nostro Paese vuole esserci con forza e con grande determinazione. Come si organizzerà questa marcia? La marcia avrà due momenti importanti. Intanto la promozione dell'evento è sempre affidata al centro Piola Torre. Ci sarà un primo momento a Casteldaccia dove verrà esposta una prima insegna della nuova via che proprio prenderà il nome del trentennale della marcia antimafia che Piola Torre ha voluto e seguirà un corteo poi da Bagheria, dalla scuola Cirrincione fino all'altro punto in cui inizia la strada che collega Bagheria a Casteldaccia su cui ci sarà un momento in cui le autorità potranno intervenire e si snoderà un corteo. Per quanto riguarda i beni confiscati abbiamo saputo che sono stati appunto assegnati al comune di Villabate 10 di questi beni. Adesso come verranno impiegati? Ma intanto consentitemi di dire che è stato molto emozionante partecipare a questa cerimonia presso l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla mafia alla presenza del prefetto Caruso. E' stato bello perché c'erano altri comuni come San Vitolo Capo, Mazzara del Vallo, c'era la stampa e in quell'occasione abbiamo avuto modo di dare una testimonianza di una nuova Villabate che appunto cerca il riscatto da tutto ciò che è stato il male che la mafia ha provocato. Si tratta di 10 civili abitazioni e il prefetto ci ha anche annunciato una prossima assegnazione che segue appunto una nostra manifestazione di interesse. Obiettivo dell'amministrazione è quello di cercare di alleviare il disagio sociale che deriva dall'emergenza abitativa e quindi ci stiamo attivando e stiamo attivando i nostri uffici preposti per cercare di assegnare questi immobili a cittadini bisognosi.